V2 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 V4 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 Grazie a tutti. 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 Mottor? Va con le arore torna rai in sotto care che che chiede Mottor? Tu a te quando sora mia 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 del mia mi mare No, no, no. l'addiccio... una gente ha chiamato che insegna e uscire che cresci il suo fine l'addiccio è un po' non è così perché o la gente non dice che lo stiamo siano Non ciò che c'è, non ciò che c'è, non ciò che c'è. Facciamo una buona lit получается, il primo è un altro portato Che porterà il muo cammino, può essere chiaro al IST Ora gauche sul proie di così. Credo dire che lascia di tutti gli assai Ri un loro vell Non si face verso le para clothi Sì, non lo, vang ne lo, a tu che è minza pì, zon, gutta, ui san, thang tach, cam tam, ki, phasar, buon man ang long, Io lo, vang ne lo, più, che è minza, muon no, siamo, i soldi oлавelo, Non c'è nulla, non c'è nulla. Questo è il momento. Dov'y'e più? I'm not even a chance. Non so. 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 No. Non so. Non so. Non so. e non è un po' di più No, 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 no. C'è una cos'è? Mi, ero? Sòm thùm l'angia règn. Comewood, la cosa? Con noi, non c'è bene. C'è un film qua, ho detto che, quella che aveva. La loro chiamo, per quanto riguarda la vita. C'è un film perché i gli amici i amici i amici i amici di amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.